Una buona epifania a tutti gli amici di Monster Movie. Oggi parliamo della Befana. Una tradizione diffusa nel nostro paese fa riferimento ad una vecchia signora, classificabile come strega, che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio vaga tra le case in sella ad una scopa a portare dei doni a tutti i fanciulli, riempiendo le calze. Il rinnovamento di madre natura si trasfigura in una vecchia simpatica che ci porta i regali e che a volte viene data alle fiamme. In diversi comuni veneti vigia una tradizione legata a questa particolare nottata ed è il pane vin. Si accende un grosso falò e si brucia un buffo fantoccio dalle sembianze di una vecchia. È presente anche in territori limitrofi come quello lombardo. Noi lo chiamiamo prison laeccia.